. Justine e Selena, matrimonio segreto contro la volontà della famiglia Justine Bieber e Selena Gomez si sposano? Gli ultimi gossip sulla coppia. Justine Bieber è pronto a sposare Selena Gomez. Ma il ritorno di fiamma non ha convinto fino in fondo la famiglia dell'ex Stellina Disney e in particolare la mamma Mandy, che del canadese non ne vuole proprio più sapere. . Per questo la coppia che sta cercando di mantenere un basso profilo con i media sta pensando ad un matrimonio segreto. . A farlo sapere è Lifestyle, che riporta il piano dei due cantanti. . Ovvero quello di compiere la classica fuitina italiana e mettere così tutti i paranti davanti al fatto compiuto. . L'idea non entusiasma molto Selena, ma la ragazza non vuole rinunciare al grande amore della sua vita che ha finalmente riprovato. . E così, ora che ha capito che Justine è cambiato, è pronta a sposarlo di nascosto, lontano da drammi, problemi e inutili pregiudizi. . . La madre di Selena Gomez non apprezza più Justine Bieber. Mandy Tefi, la madre di Selena Gomez, è del tutto contraria all'ennesimo ritorno di fiamma tra la figlia e Justine Bieber. . Quest'ultimo in passato ha fatto soffrire parecchio la ragazza a causa dei suoi tira e molla. . L'ex star di YouTube ha ammesso di essere cambiato, di essere cresciuto e maturato, ma questo non è abbastanza per la famiglia di Sel, che si aspetta un nuovo passo falso da parte dell'artista. . Per questo la coppia trascorrerà il Natale separata ma, quasi certamente, si ritroverà insieme per Capodanno. . Chissà che il matrimonio non avvenga proprio durante l'ultimo dell'anno… . I gossip sul matrimonio di Selena Gomez e Justine Bieber. . Stando a quanto si legge sui media americani, Selena e Justine starebbero pensando ad un matrimonio al caldo. . Molto probabilmente alle Barbados o alle Hawaii e in presenza di pochi amici intimi. . A celebrare le nozze invece dovrebbe esserci il pastore che ha riunito i due ragazzi. . Proprio grazie alla frequentazione di una chiesa di Los Angeles, Justine e Selena si sono riavvicinati e hanno ripreso a frequentarsi. . . Per la gioia di Bieber che in cuor suo, nonostante la relazione tra la Gomez e The Awakened, ha sempre saputo che l'interprete di Woves è la donna della sua vita. . . . . . . . . .